Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Oggi affronteremo le ultime informazioni trapelate riguardo al caso di Resinovich. Le indagini sulla morte di Lilianak sono ancora in corso, e questa tragica vicenda è diventata uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi tempi. Sergio Resinovich, il fratello di Liliana, non crede alla tesi del suicidio. In un'intervista, ha manifestato dubbi sulla versione del suicidio, definendola una messa in scena, Sergio ha dichiarato di credere che l'atto del suicidio sia stato orchestrato per apparire tale. E ha sollevato preoccupazioni sul fatto che il marito, Sebastiano Vicentin, abbia tratto in inganno la polizia definendola scomparsa come un allontanamento spontaneo, causando così una perdita di tempo cruciale. Sergio ha condiviso la sua testimonianza del giorno della scomparsa, affermando che, quando aveva chiamato al telefono sua sorella, Sebastiano aveva risposto affermando che Liliana era uscita, lasciando il telefono a casa. Sergio ha sottolineato che Liliana era una donna precisa che non sarebbe uscita senza telefono, soldi e green pass. Secondo Sergio, il marito potrebbe averla uccisa per gelosia, sostenendo che Liliana era felice e aveva intenzione di iniziare una nuova vita con un altro uomo. Claudio Sterpina ha confermato l'incontro con Liliana, rivelando il suo desiderio di iniziare una nuova vita con lui. Sebastiano Vicentin, il marito di Lilli, chiede solo a chi sia stato ad uccidere Liliana di confessare, avendo il coraggio di dire. Sono stato io. Cosa pensi delle dichiarazioni di Sergio Resinovich? Cosa pensi delle dichiarazioni di Lilli, chiede solo a chi sia stato ad uccidere il nostro coraggio di